Ciao a tutti ragazzi, io sono Rocky Random e oggi siamo qua con lo specialissimo, proprio lui, DJ Shablo Esatto Proprio io e sono proprio qua con il grande Shablo da generazioni E oggi andiamo avanti a serie su Zelle Ragazzi abbiamo svoltato il gioco Abbiamo ragazzi praticamente quella pietra inutile di fianco a casa nostra Oltre a laggare un botto appena ci entri praticamente Ti fa vedere, cioè ti dice in pratica cosa bisogna fare Cioè ti fa vedere proprio il filmattino e ti dice dove devi andare Cioè è utile Quindi adesso sappiamo che dobbiamo trovare una grotta in cui entra un fiumiciatolo, un torrente, un ruscello Eeeh no, è dove eravamo la volta scorsa No Via, via Buttati, buttati Vai, vai Sì ma addio caro, fallo più velocemente Trito Che cazzo vuole Per secondo me sto su, da arrivare Eric Ma ancora Ma diamante Non me l'ha già detto Non me l'ha già detto No, no, basta sta zitto il gioco Com'è già notte ma le opino Sto gioco è una merda Basta ma è giorno Via dal balsh Eccoci, eccoci ragazzi Dai, dai Retarded Is a retarded guy Sì, ecco forse Christian Capito Così, c'è un mondo dentro una grotta È giusto Ecco è ancora lì Nocturne Bombe, bombe Che ci aspetta Uuuuh Sta diventando sempre più forte eh Ormai c'è proprio un ometto trito Qui vicino c'è il biglietto Mi sta prendendo per il culo Servono la famiglia reale di Hyrule Proteggendo la sorgente delle acque Nel loro villaggio sono ammessi solo coloro che hanno legami con la famiglia reale Vabbè, suona una melodia della grazie Della? Della famiglia reale Ah, ok, ecco la classica Schiere Schiere L'unica che ti serve veramente in questo gioco finora Ehehehe Bomba? Ah, non lo so E via Ma c'è una zanzara qua dentro, por Leopino Figa, aveva una finestra aperta Chiudila, chiudi No, se la chiudo moriranno i cani Chiudila, chiudi No, por Ma che ci sentono i vicini Ci sentono, por Porco Dio ci sentono Noooo Siammatti Siammatti Lo fa quel disadattato lì Ma non Vai, dopo ci cadiamo dentro Gnamme 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 Quanto è brutto, madonna santa Ci andrebbero dei fagioli magici Eh, bonzar Eh, infatti Non ne sto vendendo molti No Boh, dai, sì Vediamo che sono Va bene Che mer Una bella grattata Adesso ormai ci riusciva anche saltando normale Ma adesso ci proviamo Ma no Ma no Cosa ti avevo detto Eh Altrimenti torno giù io No, ho premuto il tasto magico Nooo Ma quale cavolo di tasto è che fa sta roba Ma perché si frida Ma che cavolo Ma che cazzo? E via Un altro giro adesso No Oddio Devo di nuovo andare fin lì Nooo Si capo Lascia me la tengo tutto il tempo Non buttarla mai più Fenomeno Ecco È stata molto utile Nooo 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 Una bella grattata Lì non ci arrivo eh Arra via Ah E invece Faceva vedere il filmato Ah è già giusto Oh Oh Ti costruisco di andare qua Non c'è di nulla via sinistra Perché non vuoi andare qua? Qual è il problema? Vabbè ok Non c'è mai Per una volta che sappiamo dove andare Devo cadere per forza Dal tot Oh eccoci qua E ora via Ti 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 E già Ne sappiamo solo 3 su quante erano 9 O 12 Quindi? Dovendrarni? No E vai ragazzi affatto abbiamo finito il gioco Finalmente non ne potevo più Putta Fa vedere Perca trombola C'era come il villaggio dei Dodongo adesso Cavolo il bell villaggio Si infatti A parte che anche loro non è che siano sto granché eh Dai spacca tutto Buono Mi sa che non possiamo chiudertelo Ma che cazzo? Ma che cazzo? No ma Ma è un cancro Ho le bave alla bocca dal nervoso Ci credi con le bave alla bocca? Sembra un licantro Cioè io non lo faccio apposta Ho il dito lì sopra È questo Advanced Frame Che caspita fa l'Advanced Frame L'hai tolto? Eh Se trova un tasto inutile da me Ins questo Calypso Chi sei? Noi siamo gli Zoro Il popolo Dici avere dei legami Allora cosa vuoi da noi? Ma che cazzo? Cazzo Oh Leggendario Sembra il rospo di Naruto La mia piccola Ruto Dove sarà? Perché non torna? Non ci avevamo parlato prima di Fai passare stronzo Ecco Ecco Ruto La pesca subac... Si No Ah Ma perché? Sì ma non ti arrabbiare eh Vado giù Non mi fermo Non mi fermo Non mi fermo La principessa Ruto è scomparsa Non siamo più trovata da nessuna parte Abbiamo cercato anche al lago Hila Cosa devo recuperare? Delle rupie Uh soldi Mi servono i soldi Via vai 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 Vado Ecco preso una Vai giù 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 Dai Ok Sei Implementi vieni a prendere quello che ti spetta Devo tornare su Ma vaffanculo Coglioni Oh ma qua possiamo accendere i robbi Bello Sì Sì Sono altri Sercato davvero bravo Ecco il tuo premio è una delle nostre squame Ti permetterà di immergerti a profondità maggiore Sì Vai Deve equipaggiarlo No... No Lago Mi sono rimasto male NOOO Lampolla 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 Voglio avere l'ampolla Cosa c'era nell'ampolla? Hai tenuto un'ampolla Ma cosa c'è in quell'ampolla? Una lettera Eh ok ma possiamo tirarla fuori o no? Eh no Vai lì dentro Eh torniamo al lago di prima Stava morendo Eh vabbè se lo meritava anche Vai vai Vado giù Andrea I don't stop Allora Zelda Ocarina Of Time Songs Dove si trova? Song list Basta Allora hai trovato un punto Che fine avevi fatto? Ci hai messo un sacco per arrivare qui Perché non tocchi ed hai erocchiato la strama della mappa di tanto in tanto? Trito non è meraviglioso questo lago con le sue acche così limpide e pure radiosi e tere? Sul fondale si trova il santuario dell'acqua dove vengono venerati gli spiriti dell'acqua Il santuario è costruito dagli Zora Forse lo sopevi già ma gli Zora provengono Vabbè Sono creature acquatiche che sono le attive Va bene Ti do dire che se sono i membri della famiglia reale possono entrare nel villaggio degli Zora Se ci ha detto di farlo qualcosa servirà E poi è bello a che roba Non andiamo al castello così? Eh Non ti piace il castello? Non serve una mazza Eh hanno detto che possono entrare solo con l'idea famiglia reale Quindi magari dobbiamo farci dare qualcosa per essere riconosciuti Quindi prenderlo Oh L'ampolla contiene qualcosa? Una lettera? Aiutatemi per piacere Mi trovo nella pancia di Yabu Yabu Firmato Ruto PS non dite da mio padre Diciamo da suo padre Mostro la lettera adesso Schiaccia Ok Oh Questa lettera è stata scritta dalla mia piccola Ruto Vediamo cosa è nella pancia di Yabu Yabu Com'è possibile? Il nostro patrono non mangerebbe mai la mia cara principessa È tutta colpa di quel Ganondorf Oh ma Conoscono tutti È una web star Da quando è arrivato Yabu Yabu È iniziato a trattare tutti a pesci in faccia La lettera però parla chiaro Devi andare a cercare Ruto Usa questo passaggio per arrivare all'altario di Yabu Yabu Io ti ero la lettera con me Tu prendi pure l'ampolla che la contiene Ma facci tu scusa da Ruto Ti prego riportami la mia piccola Ruto Ma che obeso? Ti sta spostando LOL Beh ragazzi Questo è stato assurdo Eeeh Puoi già finirlo? Già Già 52 minuti Eeeh adesso Eeeh Come sempre ragazzi Ci vediamo nel prossimo video Esplorere Guarda cos'è quello schifo Eh ma è mai col gioco E' Jabu Jabu Di Ubal Juba Ciao Bene questa agonia è finita Tutta Oh ma è sempre peggio sto gioco Grazie a tutti Grazie a tutti